Interviste che Matteo Parlato ha raccolto tra i pescatori di Lampedusa. Senta, ma voi come vivete questo flusso di migranti che vengono qui sull'isola? Ma noi non ci danno fastidio, perché quando arrivano se le portano. Dopo queste dicolore sono bravissime. Senta, ma è vero che a volte nelle reti trovate anche resti dei naufragi? No, 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 quello mai. E voi vi è capitato di segnalare, per esempio, di vedere barche e mare e segnalarle? Sì, sì, quello lì sì, di segnalare e chiamare l'autorità sì, l'abbiamo fatto un po' di volte. Si trova il pescherescio vicino e fa salire a bordo, capito? Però già ha avvisato già l'autorità, ha avvisato la capitanina di porto, finanza. Da quanti anni è che c'è questo flusso? È una vera del più... Del 93. Del 93, sì. Del 93, sì. Sbarcavano da solo, eravano e sbarcavano da solo. Sbarcavano, eravano delle spiagge, delle cose, sbarcavano, c'era comunque un casino. Quindi diciamo, questo sistema di entrate e di uscite che vigia adesso, vi sembra meglio? Sì, sì, meglio, meglio. Perché prima arrivavano e robivano case, robavano qualche moto. E infatti, tra forza, una barca di qua, se l'hanno preso, una barca lampedosana. L'hanno preso, se l'hanno portata a Tunis. Senta, ma tutti questi barconi che sono sequestrati e messi lì accanto allo staglio, ma non è uno spreco tutto quel materiale? Eh sì che è spreco, ma questi, 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 gli enti sono. Se l'hanno portato centinaia e centinaia di queste barche. Magari si potesse usare qua, metterle all'asta e si possono soffrire. Invece tutto perso, tutta roba persa. Grazie a tutti.